Per una idea di cosa volete fare? Ma frate, buildo io tranquillo Ma no, io dico... Ma chi è il builder? Silvia? Io? Silvus, wow, magic Ma Silvus, frate, dovevo seguire una riguardo in tutte le armi, fratello manderò fuori, sincero Ma, ma, aspetta, ma... Se una te... è normale che lui entrerà? Ora? Certo No, non è normale Ma non è normale Ti ho conosciuto ancora... Silvus che entra senza armi Ciao a voi, fratello Ciao a voi Infatti, qua un po' di tutti entreranno solo con le armi quando stavano le armi Io... Ma infatti dovete... dovete far giocare che ci danno l'inizio Cioè, chi viene dopo, rega, dovete fanno giocare Io, onestamente, volevo stare in un buon wipe Ciao Diego Arrivo tra 5 minuti Oh, padlo Ah Diego si sta sul cazzo a tutti, però poi... Cioè, non mi sembra più Ti faccio vedere Diego c'è dall'inizio, ma come se non c'era, quindi non volevo giocare Ti devo far vedere... intanto che davano... Io... lui... lui su un per 5, eh Dico che aveva due tipi davanti, tranquillissimi, oh Da in piedi e riuscita ad alzarsi la mira in... in un secondo Se non sa ne sparare Ne sa il cervello E' una mugia